Seconda edizione del festivale dal 9 a 11 agosto nella Valle dei Templi alla Fun Cultural Park ad Oceano Mare si ripropone questa seconda edizione di questo festival voluto da giovani che riporta la musica internazionale all'interno della città che ti appartiene Fausto. Esatto, non dimentichiamo che appunto io purtroppo sono fuori da tanti anni però da due anni sto provando anche con il festivale a riportare me stesso in primis per un po' più di giorni da grigento e la prima delle scuse è sicuramente la produzione del festivale. Festivale che come dicevi tu giustamente è giunto alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno siamo giunti a un anno di distanza a riorganizzare queste tre giorni di eventi che spaziano dalla musica jazz swing, jazz manoush con quest'anno lo ricordo in esclusiva italiana i Rosenberg Trio artisti di fama internazionale dall'Olanda e Ludovic Beyer, la Fisarmonica, un francese eclettico molto 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 bravo il 10 agosto loro suoneranno al Tempio di Giunone. Fausto, ricordiamo soltanto allora le date e i luoghi di questo nuovo festivale. Sì, dal 9 all'11 agosto 2018 ovviamente da giovedì a sabato Valle dei Templi, Spiaggia di San Leone sul sito internet trovate tutte le informazioni www.festivale.it c'è anche l'evento su Facebook, poi magari lo taggerete anche voi e anche i punti vendita, ricordiamo i box office, i luoghi del festival, l'Oceano Mare, Oblotur Operator e molti altri ancora. Quindi vi aspetto al festivale!